Musica E ciao a tutti ragazzi, benvenuti a tutti qui sul mio canale Siamo tornati qui signori Incredibile Con un altro ennesimo fottutissimo Forse l'ultimo Torneo dei Tots signori Organizzato dalla eSports Che mette in pale un Tots per nazione Per campionato Oggi è il turno Dopo aver vinto Sansone E' il turno di Con Alonso Quindi della Ligue 1 ragazzi Come vedete mi sono portato avanti per due partite Non era mia intenzione ragazzi Il problema è che siccome tra la Serie A e la Ligue 1 c'è davvero pochissimo tempo Perché il tempo a mia disposizione è veramente pochissimo Come vedete la prima partita la vinta 2 a 0 La seconda 2 a 1 E andiamoci subito a fare la terza partita che vale le semifinali Con questa squadra qui ragazzi In culo e espulso Gran parte di questa squadra ragazzi è formata da giocatori del PSG Ma penso sia abbastanza ovvio E niente ragazzi Questa è la formazione Andiamo subito a trovarci l'avversario per le semifinali Non chiedetemi perché è la maglia del Magister City Non lo so Devo andare a giocare a pallone dopo con sta maglia Mi sono già preparato Non fateci caso Fate finta che è del PSG o della Francia Signore primo avversario Vi sono sincero E' la seconda barra terza volta che lo promo Sto torneo non lo so Sono stato molto sfortunato Ho trovato giocatori abbastanza bravini Che hanno reso la vita pochettino difficile Allora Il modulo che a me piace tantissimo Quando lo hanno gli avversari 81-95 Ah una squadra Boh A due terzini in difesa Quindi dovremmo sfruttare quella zona lì Quindi se non ci siamo Partiamo E vamos Ok subito Lucas dentro per la KZ Ma non lo so Occhio a Cavani Cross in mezzo Un Sirigu Mamma mia Dai Marchini Spero ti fai fottere così Mutigno Cross in mezzo Lucas No Lucas di testa E' un evento più unico che raro La KZ è passato Palla dentro Bufal Perché ho voluto fare il pallonetto Perché sono uno stronzo Ok Ok Bufal 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 Ma che palle Mamma mia che azione No Non puoi fermarmela così Uh Bufal Bufal Appoggio per la KZ La KZ si gira La KZ Che azione Che azione 1-0 Sempre lui Sempre la KZ Ma che azione di Bufal Muzigno Muzigno si gira bene Jean Muzigno Jean Muzigno Come si è girato Mamma mia che giocatore Quanto lo adoro Lo adoro 2-0 Jean Muzigno Occhio occhio Con Alonso Balla in mezzo No 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 Eder 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 Ho fatto la capellata io Dentro Sirigu Eh vabbè Due volte non riesce Ho fatto io la cazzata Raga Colpa mia Colpa mia Colpa mia 2-1 Accorce la distanza Nel attraversario Dai ragazzi Non molliamo Cazzo Quanto cacchio È forte David Luiz L'odio Lucas Si riesce a passare Lucas Cross in mezzo È buona Jean Muzigno No Che ha preso Trap Bravo Bufal Come è passato Bufal Bufal Incredibile Bufal No No È arrivato stanco Raga È arrivato stanco Novantesimo Non al novantesimo Perché lagga Al novantesimo Perché lagga Al novantesimo Oddio Oddio Bufal Bufal Corri Bufal Corri Bufal Corri Bufal Dentro la cazzetta Dentro la cazzetta La cazzetta La cazzetta La cazzetta Boom 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 Signori 3 a 1 Chiusa Che sofferenza Andiamoci a prendere la finale Finisce signori 3 a 1 Speriamo di non dover sudare così 9.1 Bufal Raga Partita molto equilibrata Devo dire la verità Siamo passati noi ragazzi Andiamoci a fare questa finale ragazzi Speriamo di vincerlo subito Questo Gonalo Stotz Mi sono fatto scappare Ruben Castro Non mi faccio scappare un altro giocatore Ultimo avversario Ecco il nostro finalista ragazzi Oh Bifuma Alessandrini L'HZ CoC Pastore E Verratti Vabbè signori Finale Ci siamo Partiamo E vamos Bufal dentro Un tap Fumatolo Fumatolo in tap Depp Centrale Ruffier Bello scambio Bufal 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 L'HZ Che duo Che duo Che uno due Sempre lui ragazzi Che poi dico sempre lui Potrei prendere il posto di Sandro Piccinini Lui dice proprio lui Io dico sempre lui No 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 Uh L'HZ Dentro Che poi non è dentro E su E su Per Lucas E su per Lucas Dentro No Lucas perché fate il palonetto pippa ma che mollo verratti col numero verratti messo giù arbitro no 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 siri gutti prego bufala vede dentro l'ha visto vander via l'incredibile vander via si ferma vander via che cazzo hai fatto perché non è tirato poi me l'ha anche ammazzato arbitro va bene va bene così l'appoggio dietro mutinio traversa mamma mia che traversa del mio mutinio ok nostre nostra è nostra è nostra è nostra è nostra è nostra è nostra oddio che azione brufi e signori che azione tutta di prima calcio d'angolo finisce il primo tempo 1 a 0 dai ragazzi no mi hanno passato tiago silva ok tiagone il solito 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 tiagone ho visto la cazzetta come si è smarcato bene la cazzendovo fare il gol della merda solo che io a me dispiace fare i gol della merda ma devo fregarmene no 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 che sono sti lanci improvvisati alessandrini si vabbè ma cosa vuoi fare che difesa che difesa è partentep che difesa è partentep che difesa è partentep partentep facciamo un contropiede incredibile un contropiede incredibile ma che passaggio è devi correre la cazzetta devi correre dalla lucas va bene va bene lucas va bene lucas lucas l'appoggio verratti sempre centrali verratti porco schifo dai bufalti prego bufalti si che urlo ho fatto non lo so bufalti 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 doppietta se non sbaglio di bufalti mamma mia signori doppietta di bufalti stavo veramente col cuore in gola perché ho paura di sbagliare però 2 a 0 signori come se l'è fumato corri lucas lucas come gazz lucas come gazz lucas come gazz ecco come gazz occhio ancora bifuma ma quanto corre corri marchinhos di fisico bravo no 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 sirigu pazza sta pari tap palla dentro oddio bufalti ma porco schifo che scavetto che ha fatto un tap tiago silva tiago silva corri dai che regolare ti prego palonetto finisce vinciamo anche gonalons dico la verità ragazzi di tutti i tornei questo è stato il più difficile tra l'altro quello del tot della serie è il più scarso di tutti i tornei ma vabbè lasciamo stare no è anche sanne 82 partita dominata ragazzi ma in bilico fino all'ultimo perché non riuscivamo a buttare dentro il gol della sicurezza signori eccolo qui gonalons inviamola alla rosattiva e infiliamocelo qui ragazzi io non so se questo è l'ultimo torneo che la ye organizza dove mette in palio diciamo dei tot se così fosse ragazzi io vi ringrazio di aver seguito tutti i tornei mi dispiace solo ripeto di ruben castro che non sono riuscito a vincere ma io vi ringrazio per aver seguito con costanza tutti questi tornei veramente sono andati benissimo hanno quasi superato tutti le 10.000 visual non voglio parlarne in termini di numeri ragazzi però alla fine è l'unico modo che io ho per capire se a voi piace qualcosa o meno quindi io vi chiedo di superare il mille mi piace per la fine di questa serie di tornei organizzati per vincere dei tozzi vedeteci io spero che questo video vi sia piaciuto mi piace commentate condividete passate da tutti i social in descrizione ragazzi seguitemi su instagram seguitemi su instagram joe jayan tutto in descrizione passate dal canale dei brainless dal telegram dei brainless dal mio brainless no dal mio telegram la mia pagina facebook tutto sotto in descrizione ragazzi infine finito del giorno è tutto e ciao aglio ciao